Ciao ragazzi, come state? Il nostro motto è distanti ma vicini, perché nonostante dobbiamo stare a casa giustamente perché è importante per la salute di tutti noi, possiamo comunque essere vicini e farci sentire vicini l'uno con l'altro, possiamo continuare a ballare, a danzare, a cantare, quindi a fare musical anche ognuno nella propria cameretta come ci sono io in questo momento e quindi che ne dite di cantare insieme la canzone che abbiamo provato ultimamente al punto luce? Pronti, partenza, musica! Insieme, insieme, tutti insieme più che mai, insieme, insieme, tutti divertirai, insieme, per sempre contiamo su di noi, insieme, insieme, per sempre più che mai. Ora noi dobbiamo imparare e lo sport ci aiuterà, che i nostri sogni non hanno più confini e questa è la realtà. Speciali noi, ognuno nel suo stile, siamo la forza ormai, tutti noi, le note di un accordo, che il mondo suonerà. Se noi restiamo insieme, credi a me, tutti noi, siamo star, vinceremo. Se noi restiamo insieme, io con te, tu con noi, ciò che vuoi si realizzerà. Everybody now! Insieme, insieme, tutti insieme più che mai, insieme, insieme, tutti divertirai, insieme, per sempre contiamo su di noi, insieme, insieme, per sempre più che mai. Un bacio a tutti, ragazzi!